Allo stadio Bernicchi di Città di Castello arriva l'ennesima delusione per il Sansepolcro salvezza diretta, sempre più difficile con la sconfitta rimediata dai ragazzi di Michele Tardioli contro il Villa Biagio, la formazione bianconera deve ora guardare di raggiungere i play-out dato che la salvezza diretta sembra sempre più una chimera. I bianconeri di Tardioli, incredibilmente, hanno giocato meglio quando sono rimasti in dieci dopo l'espulsione affrettata di Bianchini, reo di essersi beccato due cartellini gialli nel giro di appena un minuto. Dopo quell'espulsione di Bianchini arrivano le due reti vincenti dei ragazzi del mister Cocciari. Le reti al 32esimo, dopo che Bianchini si è beccato il doppio giallo, punizione per gli ospiti con Davide che respinge di pugno, la palla va a sbattere sulla testa di Curti che sigla l'1-0. Al 42esimo il raddoppio, dalla lunga distanza ci prova Rondoni, il suo tiro passa tra una selva di gambe insaccandosi alle spalle del portiere del Sansepolcro Davide per il 2-0. La ripresa si apre con il Sansepolcro che si getta in avanti con tanto cuore. Al 58esimo c'è il fallo di mano di Cenerini in aria e calcio di rigore conseguente che Mortaro trasforma. La rimbaggio finale del Sansepolcro non scaturisce gli esiti sperati per la bravura del portiere Vitale e il Vailabiaggio chiude con la vittoria per 2-1.